Forse è proprio dalla lingua napoletana che bisogna ripartire per mantenere alta l'attenzione che il mondo ha sulla lingua napoletana stessa e sulla regione Campania. Non c'è dubbio, è una parte dell'identità. Noi esportiamo la nostra identità culturale che è fatta di tante cose, ma primariamente di musica e di lingua. Quindi la musica napoletana e la lingua napoletana che sono connesse nei nuovi generi musicali, per esempio, sono qualcosa di vivo che si sviluppa continuamente e continuamente. Quindi studiarli, tutelarli e salvaguardarli significa tutelare, studiare e salvaguardare la nostra tradizione culturale. Per un operatore della cultura come lei è stato ed è forse anche tuttora e lo sarà anche un po' complicato in questo periodo mantenere un certo livello di attenzione e di lavoro. Come può un operatore della cultura far fronte a questa emergenza sanitaria? Questo è un periodo che mette a rischio tutto, mette a rischio il nostro stare insieme, mette a rischio tutto quello che è sociale. Quindi proprio perché è a rischio dobbiamo alzare il livello di attenzione, dobbiamo alzare il livello di guardia perché questo momento può mettere a rischio la nostra cultura. Quindi noi dobbiamo, siamo la generazione che è deputata a conservarla per poterla passare alle generazioni future. Recentemente dei segnali ci sono stati, la riapertura di alcuni poli museali, degli scavi archeologici, magari uno su tutti, Pompei, ma anche più vicino a Pompei ci sono gli scavi di Oplonti, di Stabbia. Sono vari punti che aprendo possono contribuire a far ritornare quel flusso di turisti che tanto ci manca. Io sono certo che nel momento in cui venisse consentita la riapertura dei siti culturali, questa regione potrà avere in questo l'unica grande chance di sviluppo. Questo è il motivo per cui dobbiamo stare attenti adesso e prepararci perché quando sarà il momento non ci sarà un attimo da perdere. Tutti i turisti dovranno tornare, non solo dovranno tornare ma si dovrà sviluppare ulteriormente questo comparto che era già in grande crescita prima della pandemia. Dobbiamo riprendere da dove eravamo rimasti ma con maggiore attenzione e con maggiore forza.